Ciao cari amici, sicuramente molti di voi conoscono Tucker Carlson, un ex conduttore televisivo della Fox News. Voi ricordate che questo giornalista molto coraggioso statunitense che ha raccontato molte informazioni, ha rivelato molte cose che hanno portato il pubblico statunitense verso la realtà oggettiva, fuori dal binario della propaganda atlantista, propaganda oligarchica che viene divulgata in tutto il mondo, ma soprattutto nel blocco occidentale, dai media occidentali. Questo coraggioso personaggio, ovviamente sostenuto da Trump, ricordiamolo che la stessa Melania Trump, moglie di Trump, diverse volte ha preso pubblicamente le sue difese e anche si parlava del fatto che lei avesse pagato gli avvocati di Tucker Carlson quando lui doveva difendersi nelle aule giudiziarie per alcune accuse che venivano poste contro di lui e anche durante il processo di Fox News, quando Fox News ha cercato di censurarlo e lui ha dovuto andare via. Insomma, poi abbiamo visto il suo avvicinamento a Elon Musk, Elon Musk ha fatto esordire Tucker Carlson sul suo canale della piattaforma X, quello che una volta si chiamava Twitter e Tucker Carlson ha prodotto enormi numeri, bisogna dire che il suo primo video su piattaforma X è un numero che ha fatto in pochissimo tempo milioni, decine di milioni di visualizzazioni e questo giornalista, a mio avviso giornalista, molto forte, molto coraggioso, che utilizza in maniera molto astuta l'informazione, ovviamente un giornalista che ha una linea narrativa, bisogna dire che qua ci troviamo di fronte a un giornalista che segue una linea narrativa, ovviamente una linea contro Biden, contro coloro che organizzano le guerre nel mondo, contro quelli che investono nei conflitti, in questo caso in particolar modo lui si è accanito contro quelli che hanno investito i soldi nella guerra in Ucraina. Per diverse volte lui ha attaccato direttamente Zelensky, voglio ricordare che lui ha fatto diversi video nei quali lui ha rivelato alcuni aspetti segreti di investimenti di Zelensky, ad esempio sulle case in Svizzera di Zelensky e dei suoi collaboratori, lui ha fatto un'indagine e poi approfondito altre questioni legate sempre al presidente ucraino e adesso lui ha fatto un interessante approfondimento e di questo approfondimento lui ha parlato nel suo canale X, proprio ex Twitter, lui ha scritto in pratica che nella camera dei rappresentanti, durante un briefing segreto, quindi lui dice di avere le informazioni certe e anche le prove, cioè lui dice che tutto quello che io vi scrivo ha le prove concrete, quindi lui sicuramente rivelerà queste prove e questo suo messaggio che lui ha pubblicato su X e ovviamente una pubblicità probabilmente di un suo articolo che presto uscirà e che sarà sicuramente una bomba e lui in pratica dice che durante un briefing segreto nella camera dei rappresentanti il capo del Pentagono Lloyd Austin, voi ricordate Lloyd Austin, è un generale molto grosso, un generale statunitense dell'esercito statunitense, lui di recente è stato tra l'altro in Ucraina, ha incontrato Lee Zelensky, ha incontrato Zelensky, c'è stato anche tutto un discorso che faceva un po' ridere perché Zelensky ha chiesto a questo generale una quantità enorme di armi e di munizioni, tanto che questo generale è insomma un po' rimasto imbarazzato perché ha detto sì va bene che fate la guerra contro la Russia, però qua veramente sembra che state iniziando invasione di qualche altro pianeta, ci sono talmente tanti armi state chiedendo. Comunque Lloyd Austin nonostante la sua diciamo velata critica nei confronti delle richieste che lui ha ricevuto in Ucraina da Zelensky, quando è tornato negli Stati Uniti, siccome lui è uno che appoggia la politica di Biden e chiaramente sta dalla parte di chi investe i soldi nelle guerre, non è un uomo di pace, non è un uomo di Trump, non è un uomo di una politica che si fonda sul rispetto dell'industria statunitense, lui rappresenta i speculatori finanziari, persone come Soros, gli oligarchi, quelli che organizzano le guerre, quelli che usano l'industria bellica come una unica propulsione dell'economia interna e anche come una propulsione estera in senso di utilizzo delle armi da guerra ovunque dove Stati Uniti d'America ha l'interesse. Quindi organizzazione di guerre, sostegno del terrorismo, utilizzo di vari manieci, terroristi, tutto quello che la CIA fa da sempre e da quando è stata creata. Lui è uno di questi personaggi e durante il briefing segreto alla Camera dei rappresentanti Lloyd Austin avrebbe detto che se gli americani, cioè quelli presenti in quel briefing, non accettano di dare i soldi all'Ucraina, loro dovranno accettare il fatto che molto presto dovranno mandare i loro figli, i loro cugini, i loro zii a combattere contro i russi in Ucraina. Lui dice, manderemo i vostri zii, i cugini, i figli a combattere la Russia se voi non darete i soldi. Questo sarebbe stato detto, registrato e Tucker Carlson in qualche modo ha ricevuto questo materiale, ha questo materiale e secondo me da qui in pochi giorni uscirà un suo articolo, di solito lui crea tutta una connessione dei fatti, questo sicuramente sarà un fatto centrale, poi lui probabilmente creerà tutta una questione dei fatti legati a questa situazione e sarà sicuramente la prossima notizia e bomba che scuoterà gli Stati Uniti d'America. La cosa bella è che durante la pubblicazione di questo suo messaggio su Twitter, ex Twitter, adesso si chiama X, le hanno risposto due persone importanti, ovvero il proprietario di X, Elon Musk e anche Vivek Ramaswamy che è uno dei pretendenti alla poltrona presidenziale nelle prossime elezioni negli Stati Uniti d'America. Voi sapete che Vivek Ramaswamy è un giovane politico statunitense di origine indiana, una persona che si esprime molto negativamente nei confronti del sostegno all'Ucraina. Lui è stato quello che è espresso diverse volte in maniera molto pesante e dispregettiva nei confronti di Zelensky. Lui ha detto chiaramente che Zelensky è un pagliaccio, ha criticato Zelensky per il fatto che sta massacrando il proprio popolo, ha criticato Zelensky per il fatto che racconta a tutti che lui rappresenta la democrazia, in realtà nel proprio paese sta trattando i cittadini senza alcun rispetto di diritti umani, insomma ha fatto anche una serie di paragoni, ha paragonato Zelensky a un pagliaccio sanguinario, ha utilizzato delle frasi molto potenti e anzi ha detto che se lui fosse presidente degli Stati Uniti d'America non sarebbe mai andato in Ucraina, non avrebbe mai incontrato Zelensky perché secondo lui questo non è un politico, non è una persona seria. Quindi Vivek Ramaswamy è un candidato ai presidenti degli Stati Uniti d'America che non appoggia la guerra all'Ucraina, non appoggia il stanziamento dei soldi a Zelensky e alla sua combricola. Queste due persone hanno reagito, quindi Elon Musk e Vivek Ramaswamy, hanno reagito al tweet di Tucker Carlson, molto interessante perché loro hanno scritto, Elon Musk ha scritto ma l'ha detto davvero? e Tucker Carlson le ha risposte sì, Lloyd Austin ha detto davvero che manderanno i cittadini americani a combattere in Ucraina, cioè ha usato questa minaccia e Tucker Carlson ha specificato io ho le prove, quindi rispondendo a Elon Musk, giornalista Carlson ha detto sì, io ho le prove di quello che ha detto Austin, se fosse così cari amici è veramente una cosa gravissima perché vuol dire che Austin ha usato una grave minaccia durante una riunione, durante un briefing segreto, vuol dire che lui ha cercato utilizzando la minaccia di partecipazione diretta dei cittadini statunitensi dalla guerra in Ucraina, ha cercato di ottenere finanziamento verso gli ucraini, mentre Vivek Ramaswamy ha scritto un commento, ha detto quando le argomentazioni non funzionano quelli usano le minacce, quindi come sottolineando che il regime statunitense, così come anche il regime ucraino, quando non riesce a ottenere qualcosa che loro vogliono fare a livello politico, a livello strategico, passano alle minacce, questa è una cosa molto importante e significativa, cari amici ovviamente i nostri giornalisti, i nostri scribacchini non parlano di questo, è molto grave, comunque se volete approfondire la notizia, se volete seguire altre notizie che non vengono raccontate, che vengono censurate, strumentalizzate oppure semplicemente taciute dai nostri media, io vi invito di fare abbonamento al mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione a questo video, se volete sostenermi qua su Youtube io vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici, inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, si tratta di un libro in cui io racconto le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo importante argomento leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene!